che giocatore mamma mia esordisco così Cristiano Ronaldo è una macchina perfetta che gioca a calcio una macchina perfetta che gioca a calcio Lionel Messi invece è proprio il calcio cioè è proprio il calcio senza alterazioni proprio purezza essenza del calcio ebbè fa tutto dribbling cose impossibili aperture di gioco visione tutto parte da fermo scatena il putiferio non ce ne sono giocatori così non ce ne sono quindi ripeto dall'altro c'è una macchina perfetta che si allena H24 per raggiungere risultati stratosferici e li raggiunge dall'altro c'è talento puro dall'altro c'è talento puro non voglio star lì a fare confronti chi è il migliore chi non è il migliore a me piace Lionel Messi ma con questo non voglio dire che sia il più grande sicuramente è il più bello da vedere è il più bello da vedere perché è pazzesco è pazzesco è calcio puro è calcio puro cioè stasera gioca cioè vede una partita bellissima equilibrata si gioca lì veramente sul filo del rasoio perché il Liverpool in modo clamoroso come ha detto spesso e volentieri Adriani era sempre a ridosso dell'area del Barcellona ha giocato ha giocato ma poi dall'altra parte c'è Messi dall'altra parte c'è Messi e ti cambia le sorti di una partita ti fa il gol del 2-0 ti fa un gol pauroso quello del 3-0 perché pauroso quello del 3-0 mi fa quasi paura per 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 quanta bellezza c'è in quel gol ti mette la palla con una potenza e precisione siderurgica sotto al 7 sotto al 7 e in porta c'è un certo Alisson che è leggermente bravo leggermente ma non ci può arrivare che giocatore Messi 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 il calcio cioè il calcio nella sua totale essenza l'ho già detto senza articolazione senza senza alterazioni nulla il calcio Lionel Messi il calcio calcio stop cioè Lionel Messi fa sembrare un giocatore normale Salah stasera Salah strarippante fantastico geniale ma se poi vai a vedere la partita che ha fatto Messi dice Salah è un giocatore normale per farvi capire quanto è forte Lionel Messi niente la partita finisce 3 a 0 e poi c'è da dire che comunque il calcio è sempre uno sport collettivo e infatti infatti è stata una bella gara dove un certo Suarez fa un gol da grande attaccante apre le danze poi il Liverpool ripeto nel secondo tempo specialmente ha giocato solo nell'area avversaria cioè solo nell'area del Barcellona tanta intensità tanto 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 anche se onestamente poi devo dire che il Barcellona si è saputo difendere perché occasione clamorosa non è subita il Barcellona nonostante abbia subito ha saputo subire bene sicuramente un risultato diverso secondo me poteva 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 favorire una rimonta del Liverpool però ragazzi ripeto in quella squadra c'è sempre un certo Messi è un gol o qualcosa la inventa che poi Messi al di là del gol cioè Messi si va a rimarcare 600 gol ma al di là dei 600 gol è uno che ti rifa fare gol cioè ti ha messo due volte in porta Dembélé te l'ha messo in porta che ha detto segna e non ha voluto segnare cioè è pazzesco fa sempre la giocata giusta e la giocata giusta non è egoistica spesso e volentieri è altruista cioè quindi veramente quando tu hai questo hai tutto per essere il campione non un campione il campione il campione hai tutto perché se sei forte se sei il talento più grande di tutti e sei anche altruista il gioco è fatto il gioco è fatto pazzesco ripeto poi se l'ha preso un palo quindi sul 3-1 magari c'erano più speranze io onestamente adesso il Liverpool lo vedo quasi quasi spacciato però il calcio il calcio ogni partita va giocata fatto sta che è stata una partita bella una partita di calcio cioè quando poi si giocano queste partite il livello è alto il livello è alto e si vede la qualità c'è e si vede per cui che bello che belle queste partite che belle queste partite che bello questo calcio che bello Lionel Messi fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate likeate iscrivetevi al canale un grande abbraccio danesco Lionel Messi